allora oggi non vedete il colore sempre colore stanca la ragazza è venuta qui da me con anche lei guardando su internet e mi ha chiesto di cambiare il colore di cambiare il look il taglio il costruente cutanea la cutene sulle punte e abbiamo fatto un pillo di cutaneo abbiamo fatto una pulizia cutanea perché anche essendo una specialista del colore ma siamo anche la specialista della cura del capello si è trovata bene ti piace molto abbiamo cambiato il look la signora non mi conosceva e si è filata per solo tagliare il cappello e devo dire che abbiamo penso di averla accontentata ogni tanto guardate vedete anche i tagli ok dammi il mio spazio di sé il colore